Sono Carlo Solinas, ma a Delghiero sono noto come gatto. Chi sono? Sono un insegnante di artistica e anche un artista, chiaramente mi occupo di pittura, di scultura e anche di altre cose, cinema, teatro, ogni tanto mi prendono a fare uno spot pubblicitario, mi diverto chiaramente a fare questo. Sono anche un velista, diciamo che ho molti interessi e questo mi fa anche portare a conoscere tantissima gente perché amo il contatto con la gente, l'ho sempre amato questo e continuo ad amarlo chiaramente. Nella mia vita è piena di interessi e continuo ad averli a coltivare chiaramente. Per il resto sono un uomo di Delghiero, diciamo amo la mia città, amo la sua cultura, parlo laigherese perché penso che sia utile conservare la propria identità, non che sia nazionalismo ma proprio perché l'identità è importante per ognuno di noi, anche perché nell'interscambio con le altre culture è importante avere una propria identità. Non so cosa dire altro, penso che ci sia tutto me stesso in quello, diciamo sono una persona ottimista, credo nelle persone, certamente bisogna impegnarsi per migliorare il nostro stato e lo stato anche degli altri chiaramente. Nella vita ci sono delle incomprensioni ma bisogna superarli senza nessuna aggressività, senza nessun rancore con gli altri ma cercando sempre di migliorarsi con se stessi e con l'esempio portare praticamente quello che c'è di buono nella vita.